Altra settimana andata, eccoci qua, ciao ragazzi, benvenuti in una nuova pagina o direi un nuovo video del mio diario fitness Siamo ormai, ho appena visto il telefono, 46 giorni dall'inizio di questo percorso Quindi a circa 6 settimane da quando ho ricominciato la palestra Questa settimana ho notato che ho molta più forza A parte che sto iniziando a vedere un po' di miglioramenti dal punto di vista fisico Mi vedo un po' più definito, vedo che si stanno riprendendo le forme diciamo che avevo del mio corpo I muscoletti stanno ritornando Ma soprattutto la cosa che mi ha proprio sbalordito più di tutto è che veramente ho più forza Sto pian piano riuscendo a sollevare un po' più di pesi Senza fare tantissime fatiche io solitamente non cerco di sollevare 100-200 kg Però mi piace sempre cercare di in qualche modo sfidarmi e aumentare un po' di più i pesi ogni volta E ce la sto facendo senza grandi sacrifici Ultimamente sto cercando di aumentare i pesi Io solitamente stavo su serie di 10-12 ripetizioni Adesso sto cercando di fare delle serie da 8-10 ripetizioni con un po' più di peso Perché è uno dei miei problemi più gravi E dei quali mi sono reso conto soltanto ora che sto iniziando a studiare Come vi ho detto mi sono iscritto al corso per personal trainer Sto seguendo le lezioni e è molto interessante Però una delle cose che mi hanno reso conto è che io praticamente nella mia vita Ho sempre fatto quasi sempre gli stessi esercizi Mi mantenevo quasi sempre sullo stesso peso e facevo quasi sempre le stesse ripetizioni E quindi ovviamente qualcosa la devo cambiare se voglio vedere dei risultati diversi Adesso oltre ad aver inserito nuovi esercizi che magari prima tipo tralasciavo Non li facevo o magari neanche li conoscevo Sto integrando quelli lì e sto notando dei piccoli cambiamenti Adesso praticamente sono fisso su questa cosa qua Sto facendo 3 giorni di pesi, 2 giorni di cardio Ma comunque nei 3 giorni di pesi faccio comunque cardio Che tra l'altro sono quei giorni in cui vedete praticamente nelle mie stories che brucio più di 1000 calorie Solitamente in quei giorni lì faccio prima l'allenamento pesi E calcolate che solo in quello brucio circa 400 calorie E poi vado a fare un lavoro cardio nel quale faccio HIIT Quindi High Intensity Interval Training E quindi un allenamento a intervalli ad alta frequenza In parole povere mi metto praticamente facciamo finta che lo voglio fare sul tapirulan Cammino per 200-300 metri e poi corro per 700 metri o 1 km Oppure facendolo in minuti che è un po' più semplice Corri per 30 secondi alla massima intensità o comunque un'intensità molto molto alta E poi magari cammini per un minuto Quindi il riposo è quasi sempre il doppio rispetto al lavoro Però ovviamente il lavoro deve essere bello consistente diciamo Nelle ultime settimane non mi sono pesato Non perché non volessi ma perché ho praticamente scaricato la batteria della mia bilancia E devo cambiarla e ogni volta appuntualmente mi dimentico di cambiarla Però così a vista secondo me stiamo migliorando Ovviamente ragazzi questo percorso è iniziato da un mese e qualcosa Quindi in un mese ovviamente non possiamo vedere chissà quali cambiamenti Però già il fatto che dei piccoli cambiamenti si riescono a vedere Sono contento di questa cosa qua E inevitabilmente ovviamente per quanto riguarda l'alimentazione Questa è un po' una cosa, una simbiosi che accade poi nella mia testa Che inevitabilmente se mi alleno bene e mi focalizzo sull'allenamento Inizio anche a mangiare meglio Perché ovviamente voglio rendere di più in allenamento E per rendere di più in allenamento devo inevitabilmente mangiare meglio E quindi diciamo che per me è una cosa che va molto insieme Questa settimana l'unico diciamo sgarro più grande che ho fatto È stato nel What I Tina Day che avete visto Perché sono venuti i miei amici a casa E quindi abbiamo, ho cucinato, ho cucinato in modo abbastanza sano Però come avete visto abbiamo bevuto, mi sono bevuto due calici di vino Quella sera lì Sappiate che per un percorso di perdita di peso non è l'ideale bere alcol Anzi alcol e zucchero sono le prime cose che dovete eliminare dalla vostra dieta Zucchero ovviamente è lo zucchero raffinato, quello in polvere diciamo Però è ovvio che una volta ogni tanto ci si conceda degli sgarri E solitamente per quanto riguarda lo sgarro io cerco di scegliere Cioè nel senso non posso mangiare schifezze e bere anche Quindi solitamente un consiglio che vi do è quello di scegliere O mangiate schifezze o bevete alcol Quindi dovete scegliere cos'è più importante per voi Io per gestire le cose solitamente faccio venire i miei amici a casa Così posso controllare cosa mangiamo Nel senso che cucino io Ma ovviamente non esagero mai con il bere Perché solitamente di mio non esagero mai Ma specialmente in un regime così Cerco proprio di non esagerare in assoluto Perché ragazzi vi svelo questa cosa qua L'alcol ha le stesse calorie dell'olio Pensate solo questo Un grammo di alcol ha 9 calorie Tanto quanto un grammo di olio Quindi è come se stessimo bevendo olio E la cosa peggiore è che quando beviamo alcol Il nostro corpo praticamente Siccome l'alcol per il nostro corpo è tossico Lui praticamente blocca Diciamo in parole povere Blocca il tutto Pur di processare l'alcol e farlo uscire dal nostro corpo Quindi figuratevi se mangiamo anche Gli diamo sia calorie da processare Che alcol da processare Lui darà la priorità all'alcol E quindi quelle calorie rimangono lì Dal punto di vista energie però Continuo ad essere Sapete qual è la cosa dal punto di vista dell'energia Non è non avere energia Perché poi mi alleno e riesco a dare il massimo E più che altro È quel momento prima di andare in palestra Quel momento in cui praticamente mi alzo Io solitamente vado dopo pranzo Quindi mi alzo dal tavolo E devo preparare la borsa E devo raggiungere la palestra In quel momento dico Oh non c'ho voglia Però bisogna superare quella cosa lì Bisogna superare quel momento Quei cinque minuti In cui inizio a fare le cose E poi una volta arrivato in palestra A fare le cose Ti senti molto meglio dopo E dici wow Meno mai che l'ho fatto Quindi mi raccomando Non bloccarti In questo loop Del Ah non c'ho voglia adesso Lo faccio un'altra volta Obbligati Devi in qualche modo Obbligarti A fare le cose Almeno iniziarle Perché una volta iniziata E poi le continui Nel senso Non è che io mi preparo la borsa Arrivo in palestra Poi sto in l'impresa E ecco che non voglio fare niente E non faccio niente No Ogni tanto capita Ogni tanto capita Che magari arrivo E non mi va di Di fare chissà quale allenamento Quindi faccio una cosa un po' più Leggera Ma allora in quel caso Lì mi rendo conto Che sono proprio stanco Poi ovviamente ragazzi Io mi alleno tutti i giorni Da lunedì al venerdì Non salto mai In allenamento Ci sta la giornata Certe volte anche il sabato Quindi ci sta la giornata In cui Non Cioè nel senso Non c'ho forza Mi sento un po' più stanco del solito Però Se riesco Cioè nel senso Se il mio corpo me lo permette Cerco comunque di fare qualcosina Cerco comunque tipo Anche solo tipo Di andare in palestra Per fare un 15-20 minuti Di camminata Perché a me piace Proprio la palestra Se no Se Mi piacesse camminare E stare all'esterno Farei Delle passeggiate Fuori Io Mi godo molto Diciamo anche le corsette In palestra Perché Sul tapirulan Metto le cuffie Non devo stare attento I pedoni E le macchine E le cose Ma scorro lì Penso soltanto Ad ascoltare la musica E mi diverto molto Però provate anche voi Se magari non avete voglia Di andare in palestra Fatevi una passeggiata Uscite Prendete un po' di aria Non deve essere Per un'ora Di allenamento Possono anche essere 15-20 minuti di passeggiata Ma comunque Meglio fare qualcosina Che non farla C'è questo detto Che tradotto in italiano Sarebbe Meglio fatto Che perfetto Cioè meglio Fare una cosa Anche se non è perfetta Ma comunque farla E non cercare di farla Perfetta ogni volta Ed è una cosa Che secondo me È utile Cerco di applicarla Per chiudere La buona notizia Per chiudere In questo video È che ho ritrovato Sto ritrovando Soprattutto Non l'ho ritrovata Completamente Però Ho quasi trovato L'ispirazione Per cucinare Sto trovando Delle ricette carine Che vorrei Ovviamente sono fatta Vorrei cercare Di trasformarle In fit E proporverle Qui sul canale Quindi Dato che L'ispirazione Sta ritornando A me Magari Troviamo Magari Prossimamente Vi faccio trovare Anche dei video Ricette O delle ricettine Anche su Instagram Ora mi tocca Mettermi a fare Anche i reel E tiktok Dato che Ormai Tutto Ti sta spostando In quella piattaforma Lì Quindi vedrete Anche lì Nel frattempo Ci aggiorniamo Spero che Vi sia Interessato Anche questo Diario Fitness E ci vediamo Prossimamente Con un nuovo video Recuperate Se non avete visto Il What It In A Day Della settimana scorsa E nulla Ciao Come al solito Non vi dico Di iscrivervi Perché se sei arrivato Fino a questo punto Qua devi essere iscritto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti